de cheval addio con questi quattro esercizi non è effettivamente così perché per eliminare le culotte cheval serve anche abbinare chiaramente un corretto piano di allenamento e un corretto piano di alimentazione inoltre le culotte fanno parte diciamo della componente genetica di una donna e quindi si può sicuramente migliorarle ma in moltissimi casi non eliminarle del tutto quindi partiamo con il primo esercizio ti serviranno degli elastici quindi elastico anulare e la ring band se non hai la ring band che è quella di stoffa un po più rigida utilizza pure l'elastico esercizio numero uno ring band sopra al ginocchio andiamo a sdraiarci con la schiena a terra andiamo a sollevare il gluteo da qui stringo addome vado ad aprire chiudere 20 volte le ginocchia quindi 1 2 3 gluteo bene stretto 4 5 6 7 8 9 apri bene 10 non alzare il piede 1 2 core stabile 3 4 5 6 7 8 9 e stop per il nostro secondo esercizio utilizziamo invece l'elastico anulare andiamo a metterci in posizione 4 zampe quindi gomiti bene qua in appoggio piede a martello andiamo ad aprire chiudere per 10 volte per gamba il piede bene a martello apro bene il ginocchio non il piede ma è proprio il ginocchio che spinge verso l'esterno vai ancora 6 7 8 9 10 cambio gamba e andiamo vai 1 2 stringi bene pancia 3 rilassa le spalle 4 5 6 7 8 9 e stop esercizio andiamo a riutilizzare la ring band andiamo a sdraiarci sul fianco da qui bene rilassate anche qui vado ad aprire lateralmente sempre 10 per parte stringo forte addome mano bene qua in appoggio e andiamo 1 2 si sente qua e 3 stringi bene pancia 4 se non ce la fai con la ring band puoi benissimo utilizzare l'elastico anulare 6 ricorda di aprire il ginocchio non il piede 7 8 9 e stop perfetto ultimo esercizio di nuovo elastico anulare però adesso sull'esterno del piede quindi andiamo a metterci schiena a terra piede a martello da qua gambe a 90 gradi vado ad aprire chiudere in questo modo quindi apro bene il ginocchio e il piede in modo parallelo mi raccomando non apro di più il piede o il ginocchio tutto bene parallelo stringo addome ne faccio 10 e poi posso rimanere 10 secondi ferma statica in posizione stringi qui allunga il collo rilassa e respira questi sono solo alcuni dei tanti esercizi che trovi in wonder training l'unico programma personalizzato al 100% che puoi fare a casa ovunque tu ti trovi vai al link in bio o su www.cattiavaccari.com ti aspetto ciao